Ciao da Absim! Paolo Di Bala potrebbe finire all'Inter, se ne sta parlando, si continua a parlare di questo dopo che Marotta non ha assolutamente nascosto l'interessamento per il giocatore, come si fa tra l'altro a non essere interessati a Paolo Di Bala che lascia la Juventus a 0€ e quindi innanzitutto dovrà trovare una squadra e da qualche parte dovrà pure andare, se resta in Italia potrebbe anche esserci la Roma ma è molto più defilata con l'interessamento da parte di Murigno, la volontà di Murigno di portarlo in giallorosso, il piacere di averlo sotto la sua guida ma soprattutto dicevo, soprattutto Inter come dice Gazzetta dello Sport oggi paventando addirittura un accordo già fatto, una situazione già definita quindi una pista Inter per Di Bala praticamente perentoria con annuncio ufficialità che potrebbe arrivare già nei primi giorni di giugno. Queste sono le notizie che noi andiamo a commentare, che noi acquisiamo e non possiamo dire è vero o non è vero, semplicemente riflettiamo sul dato che ci viene proposto. Di Bala all'Inter senza sacrificare Lautaro Martinez perché il posto sul bilancio per Di Bala lo libererebbe Sanchez che costa un po' meno come stipendio lordo, 9,5 rispetto agli 11 che andrebbe a prendere Di Bala ma comunque abbastanza da poter dire lo spazio per l'investimento di Bala c'è. Investimento che sarebbe contratto quadriennale da 6 milioni netti più ricchi bonus più naturalmente le commissioni e per fare posto eventualmente da un punto di vista contabile ma anche da un punto di vista di liquidità perché comunque Sanchez ha forse soltanto un anno di contratto mentre Di Bala sarebbe un investimento pluriennale oltre ripeto i bonus e i costi delle commissioni l'Inter potrebbe pensare di rinunciare ad Alessandro Bastoni. Queste poi sono cose che riguardano l'Inter e gli interisti a me interessa poco anzi nulla perché allora sono qui a parlare di Di Bala perché Di Bala all'Inter è anche un tema social è anche un tema che riguarda il giro di campo all'Allianz Stadium dell'altra sera di lunedì 16 maggio da parte di Di Bala sul finire di Juventus Lazio terminata poi 2 a 2 con il 2 a 2 di Milinkovic. Cesavic proprio mentre Di Bala completava anzi cercava di completare il giro di campo in vano perché non è riuscito a completarlo e a un certo punto è stato anche interrotto e in quel frangente un tifoso, i tifosi hanno chiesto a Di Bala non andare all'Inter. Hanno detto a Di Bala non andare all'Inter e c'è un video in cui Di Bala fa una smorfia che può essere interpretata un po' come è non so cosa dirti perché purtroppo andrò proprio all'Inter e un po' come no assolutamente non ci penso nemmeno. E' veramente una smorfia che si può interpretare in tanti modi potrebbe anche essere stata una smorfia legata a tutt'altro non alla parola del tifoso alla richiesta espressa disperata anche del tifoso. E invece secondo altre fonti sempre comunque amatoriali quindi tifosi che erano lì che hanno parlato con Di Bala Di Bala avrebbe risposto seccamente semplicemente no non ci penso nemmeno all'Inter non ci vado. E quindi balliamo su questo sulla fedeltà di Di Bala ma soprattutto su se Di Bala può essere ancora osteggiato da questa tifoseria e da questa società perché comunque anche la tifoseria della Juventus che ha mostrato tantissimo amore tantissimo affetto a Di Bala in questa occasione del saluto all'Allian Stadium è una tifoseria che in parte e lo abbiamo visto anche sui social proprio in questo momento proprio in questo caso dell'addio si è riversata contro lo stesso Di Bala. È una tifoseria che ha all'interno un'anima anti di balista se possiamo dire ecco io non sono un di balista non lo sono mai stato io sono juventino e quindi mi piace che ci siano giocatori di qualità giocatori di classe giocatori forti che rendono la Juve forte e competitiva chiunque essi siano. Non mi leggo particolarmente al singolo per legarmi a qualcuno deve esserci veramente un motivo speciale io mi sono legato ad Alessandro Del Piero e praticamente a nessun altro praticamente a nessun altro. Poi ovviamente ci sono dei giocatori che ti piacciono di più di altri è normale però nel non essere di balista non si deve essere neanche anti di balisti e quindi tirargli le pietre addosso virtualmente come è stato fatto sui social. Ripeto da una parte della tifoseria per tutto questo tempo e allora arriviamo al saluto di di bala in cui di bala deve ancora dimostrare perché nelle ultime partite si diceva di bala adesso deve dimostrare di meritare i rimpianti. Deve farsi rimpiangere che è una cosa che non ho mai capito però non ho mai accettato un giocatore che viene cacciato o comunque che gli si dice di dover andare via che deve andare via cos'altro deve dimostrare cos'altro deve dimostrare seriamente praticamente nulla deve anzi preservarsi per la sua prossima squadra e cercare di aiutare comunque i compagni fino alla fine a raggiungere gli obiettivi. Di bala ha fatto entrambe le cose si è preservato nel senso che non si è più infortunato però ha giocato allegri gli ha riconosciuto una alta professionalità nel dare comunque il suo apporto il suo contributo in queste ultime in queste ultime partite in questi ultimi allenamenti e quindi cos'altro possiamo cosa possiamo recriminare contro di bala di cos'altro possiamo lamentarci. E anche adesso questo obbligo di fedeltà alla juventus nel non andare all'inter si può capire fino ad un certo punto oltre un certo punto no cioè ci può essere il tifoso che si dispiace naturalmente nel vedere di bala andare eventualmente all'inter è ovvio è scontato è naturale è fisiologico però di qui a cancellare poi quello che di bala ha fatto alla juve ce ne passa perché anche qui dobbiamo superare secondo me un velo di ipocrisia. Nel senso intanto c'è anche un altro discorso che ci fa un po capire quando dove sta la verità anche rispetto alla decisione di mandare via di bala ma se comunque di bala è stato importante per la juventus e lo è stato in sette stagioni 12 trofei 115 gol più gli assist più le giocate non quantificabili che comunque hanno portato a gol o a vincere la partita. Questo non può essere cancellato e lui l'ha scritto tra l'altro ribadendolo anche in un video nel suo video social di saluto a noi tifosi ieri in cui in particolare si è rivolto proprio a noi si è rivolto soprattutto ai tifosi tralasciando magari la società mettendo la società in maniera diciamo più marginale non rivolgendo il saluto alla juventus nella sua interezza ma soprattutto ai tifosi. Un ringraziamento soprattutto ai tifosi mentre la juve sta continuando ad oscurarlo sta continuando a non prenderlo in considerazione continuiamo a vedere sui social post che riguardano tutt'altro e che continuano a riguardare chiellini e la juventus ancora non ha detto né ciao né grazie a dibala. Probabilmente lo farà sicuramente lo farà e lo dovrà fare quantomeno all'ufficialità dell'addio se non alla scadenza del contratto che rischia di arrivare ben dopo la notizia ufficiale che dibala si è accasato da qualche altra parte magari all'indomani dell'ultima partita della stagione il 23 maggio. Lunedì 23 maggio anzi domenica 22 perché la juve gioca sabato 21 potrebbe essere un buongiorno per dire ciao e grazie a dibala da parte della società. Quindi da questo punto di vista io credo che dibala non debba dimostrare attaccamento alla juve più di quanto non abbia già dimostrato in questi anni nel suo impegno nel suo lavoro nelle sue partite e con il saluto all'allian stadio ma quindi non è che non deve andare all'inter per dimostrare attaccamento alla juve. Anzi ci sarebbe un altro punto di vista per cui dibala farebbe anche bene ad andare all'inter. In che senso? Nel senso che è stato cacciato è stato trattato male e c'è una dirigenza quella che io ritengo ormai non più degna di guidare la juventus e di rappresentare la juventus che se lo merita dibala all'inter. Ma tra l'altro ecco parlavo di ipocrisia. L'ipocrisia sa anche in questo. La juventus che legame ha con l'inter? Ecco Conte ha allenato la juve poi è andato all'inter e sarebbe stato anche opportuno riprenderlo ma non ci sia minimamente pensato non perché è andato all'inter ma perché ha litigato con Agnelli nel 2014 o comunque si è comportato male. ha avuto anche le sue colpe e quindi non c'è un discorso vai all'inter non ti vengo a prendere. Allegri secondo Marotta notizia di ieri ha rifiutato l'inter o meglio Marotta aveva contattato Allegri poi ha virato su Simone Inzaghi. Perché ha virato su Simone Inzaghi? Probabilmente perché Allegri ha detto no e lo sapevamo che Allegri aveva detto no all'inter. è una notizia che è venuta fuori da mesi. Allegri era in fortissimo imbarazzo sudava freddo nella conferenza stampa di luglio scorso quando è stato ripresentato come allenatore della juventus nel momento in cui parlava e balbettava nel ringraziare i club che si erano interessati a lui. Quindi tanti altri legami con l'inter e in ultimo da ultimo ma non da ultimo adesso andiamo a prendere anche Perisic Agnelli che dice io voglio bene a questa inter. Agnelli nella intervista a Il Foglio qualche settimana fa ha detto io voglio bene a questa inter perché voglio bene a Steven Zhang voglio bene a Marotta e insomma la dirigenza dell'inter voglio bene la dirigenza dell'inter. C'è un legame c'è un bel rapporto. Allora se Agnelli vuole bene all'inter perché Dybala non può andare all'inter? No davvero siamo anche a questo tipo di ipocrisia. Cioè perché non prendersela magari con un Agnelli che ha fatto delle dichiarazioni che sono inaccoglibili per un tifoso della juventus piuttosto che con Dybala che semplicemente è stato scaricato e deve trovarsi un'altra squadra. Ma tornando ecco e parliamo di discorsi contrattuali tornando all'offerta che pare sia stata presentata dall'inter e pare sia stata accettata da Dybala 6 milioni netti più bonus per 4 stagioni viene da chiedersi allora che offerta era stata presentata dalla juventus? No perché tra le varie cose che si continuano ad affibbiare a Dybala tra le varie accuse che si continuano a muovere a Dybala c'è quella di aver giocato sporco di essersi comportato male avanzando delle pretesi assurde. E qui dobbiamo tornare indietro al 2020 quando Dybala disse non sono vere le cifre che sono uscite su di me nelle ultime settimane ricordate che nell'estate 2020 si parlava tantissimo di Dybala che per rinnovare chiedeva 15 20 milioni cifre sorbitanti Dybala fece gol al Genoa prese la parola ai microfoni solo dopo aver segnato prima avrebbe avuto altre occasioni non le ha mai cercate e disse io non è vero che io ho chiesto queste cifre le cifre che circolano sono false. Il giorno dopo e da quel momento per me Andrea Agnelli è scaduto clamorosamente da lì in avanti ho capito veramente che persona è che presidente è interviene per smentire Dybala una cosa che non si è mai vista una cosa inaccettabile un presidente che non si è mai occupato di mercato mai di acquisti mai di contratti non si è mai occupato di questo prende la parola per la prima volta su un tema come questo puramente semplicemente per smentire Paolo Dybala dicendo ha chiesto un ingaggio da top 5 al mondo lui sa di non esserlo noi vogliamo dargli gli abbiamo fatto un'offerta da top 20 ed è da giugno che stiamo pazientemente aspettando ma queste cifre non sono mai venute fuori e come dissi all'epoca Agnelli se avesse voluto veramente mettere Dybala in difficoltà e acquisire consenso e aver ragione avrebbe dovuto fare una cosa molto semplice dire esattamente qual era la cifra non parlare di top 5 top 20 che poi si fa confusione se europeo se mondiale se è con bonus se è senza bonus se è netti se è lordi invece dicendo le cifre precise chi avrebbe potuto smentire Agnelli chi avrebbe potuto dire non è vero se avesse detto le cifre precise sarebbe stata la parola di Agnelli contro la parola di Dybala e del suo procuratore e quindi se Agnelli ritenne che fosse il caso di prendere di attaccare Dybala di smentire Dybala e di umiliarlo già in quella sede tanto valeva tanto sarebbe valso dire le cifre esatte cifre esatte che non sono mai state chiarite ed è qui il punto si continua a dire Dybala aveva chiesto 10 milioni il procuratore di Dybala aveva chiesto troppi soldi le commissioni sono state quello che hanno fatto saltare la trattativa ma Dybala non aveva accettato dalla Juventus un'offerta di circa 8 milioni più bonus per arrivare a 10 ad ottobre l'offerta non era stata formalizzata e quasi firmata il problema non era che il procuratore di Dybala Horgiantun non era ancora procuratore iscritto e che quindi non poteva firmare e ci si era ridati appuntamento solo per questo perché se è vera questa circostanza che è stata riportata da diverse fonti giornalistiche non può essere vero che Dybala ha chiesto 10 milioni non può essere vero che le commissioni non erano idonee non erano accoglibili perché le commissioni c'erano già in quell'accordo se era stato raggiunto l'accordo era stato raggiunto poi cosa è successo Dybala ha cambiato le carte in tavola il procuratore ha detto mi dovete dare più soldi bene ma questa cosa qualcuno la dovrà pur dire cioè io dico giornalisti che sono ben informati sulla faccenda perché non scrivono visto che il loro lavoro chiaramente che cosa è successo perché c'è questo non detto perché c'è questo non si può dire che non fa altro che gettare ulteriore discredito nei confronti di Dybala che però poi va all'Inter prendendo 6 milioni con magari un Atletico Madrid magari un Arsenal magari la stessa Roma che sono alla finestra e magari potrebbero offrire la stessa cifra o di più quindi se il problema era di soldi o di commissioni perché Dybala sta andando forse all'Inter se è vero magari smettendo se stesso di pochi giorni fa ai tifosi dove ha detto forse dove forse ha detto non ci andrò assolutamente perché tra l'altro la Juventus da altro punto di vista perché Dybala può andare all'Inter a queste cifre ma perché da altro punto di vista la Juventus non si sta facendo problemi nell'andare ad offrire 6 7 8 milioni netti più bonus più commissioni a Perisic a Pogba a Di Maria perché Pogba a Di Maria c'è il decreto crescita se Di Maria fa un biennale per Perisic per esempio non c'è e sono comunque 6 milioni netti più la parte delle tasse più i bonus più eventuali commissioni perché sono tutti a parametro zero allora dov'è la verità? Questo è quello che io continuo a non capire e mi sembrava giusto fare questa puntualizzazione poi naturalmente ho già detto per me Dybala può andare all'Inter tranquillamente perché deve fare una sua scelta professionale e io gli auguro il meglio dal punto di vista professionale ma vi dirò di più in un momento come questo se io fossi un calciatore forse preferirei andare all'Inter che alla Juve al di là del mio tifo al di là del mio cuore perché poi dobbiamo sentir dire che Pogba farà una scelta di cuore nel caso in cui sceglierà la Juve una scelta di soldi perché il PSG gli dà di più ma il PSG gli dà di meno nel senso che gli offre più soldi ma gli offre meno centralità e Pogba al PSG deve mettersi in discussione deve guadagnarsi il posto alla Juve è titolare fisso inamovibile e c'è il mondiale tra pochi mesi quindi è chiaro che accetta meno soldi perché sa che alla Juve quei meno soldi significano centralità significano serenità e significano anni di contratto mentre al PSG c'è il rischio di rimanere completamente in ombra perdere magari anche l'opportunità del mondiale perdere visibilità ed essere anche mandato via nel giro di uno o due stagioni cioè non durare quindi non è un discorso di cuore Pogba sarà comunque un ragionamento di convenienza da parte sua ecco al di là del cuore io preferirei andare all'Inter perché perché l'Inter in questo momento è una società vincente che sta facendo ottima programmazione e che è futuribile la Juventus non sta facendo buona programmazione ne figuriamoci ottima è una società non più vincente ed è una società che non è futuribile visto che tra l'altro per rimpiazzare Dybala e rinforzarsi sta cercando di prendere giocatori anziani e di questo vi parlo in altri due video relativi al discorso instant team della Juventus intanto per quello che volevo dirvi su Dybala ci siamo detti tutto almeno fino a questo momento poi vedremo che cosa succederà e allora grazie per la vostra attenzione buon dibattito nei commenti di Dybala all'Inter motivazioni professionali motivazioni personali a torto a ragione che cosa ci nascondono e naturalmente ditemi la vostra nei commenti anche su tutto il resto su tutto il discorso anche tifoseria quello che volete mettete like al video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video tra cui quelli a cui vi ho già accennato sull'instant team Juventus ma se volete sfruttare il massimo da questo canale e da questa community a partire da 99 centesimi al mese abbonatevi sfruttando tanti vantaggi tra cui in particolare l'accesso alle chat riservate anche vocali sul mio server discord e ogni giorno la programmazione con i nuovi video che usciranno ci vediamo molto presto e sempre forza Juve Grazie a tutti